Noi ci abbiamo creduto già dall'inizio perché abbiamo gestito l'apertura della torre, siamo dei volontari che sono presenti qui da circa un anno e mezzo. Il particolare dell'altare è nato così, quasi per caso, siamo stati invitati dal sindaco a creare un qualcosa qui sopra, però il tempo di esposizione era molto poco perché abbiamo avuto le autorizzazioni solo giovedì. Quindi ci abbiamo creduto, dopo circa 100 anni per la prima volta viene realizzato quest'altare qui alla torre, abbiamo avuto l'onore di avere l'ok da parte di Don Ivan, il prete che seguirà la processione del Corpus Domini, salirà qui sopra per la prima volta e verrà a benedire sia l'altare che la torre. Giustamente la nostra forza è data da persone che vedi qui al mio fianco, se i risultati sono ottenuti è grazie alla collaborazione di tutti, abbiamo tolto tanto tempo alle famiglie per salire qui sopra, abbiamo lavorato, se così si può dire, anche il sabato e la domenica in particolar modo e oggi vedere tante persone venire in visita dalla torre, ci sono circa 5.500 visitatori da fine marzo fino ad oggi che sono saliti qui per un totale di circa 45.000 persone che sono salite qui alla torre da giugno dell'anno scorso fino ad oggi. Un bellissimo risultato, penso che faccia piacere un po' a tutti i cittadini di Montesalcio perché si inizia a muovere anche qualcosa nel paese sottostante, non solo nella zona alta della torre. I lavori vengono fatti con passione, quindi si accodono altri ragazzi, vengono sempre ragazzi nuovi, vista la passione che ci mettono, il giovanotto lì, quest'altro giovanotto, quindi il lavoro fatto, come dice un proverbio, si accoggina, ha uccele per uccele, gli scemi per terra. In questo caso non diciamo proprio scemi, anche perché avete realizzato un altare che è uno spettacolo a vederlo, anche se in poco tempo, come abbiamo visto, da giovedì ad oggi, quindi un grazie a voi, a nome della comunità di Montesalcio, soprattutto un grazie, penso che sarà esteso anche dall'amministrazione. Ma sì, io penso di sì, ripeto, in realtà ci ha creduto anche il sindaco, dobbiamo dare al Cesare quel di Cesare. Oggi l'apertura della torre è stata possibile grazie alla sua insistenza, perché la presenza del vaso qui è stata garantita proprio da lui, perché ci ha creduto.